Ciao a tutti ragazzi, sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi presentiamo il Board Game, il gioco da tavolo di Kick-Ass, che ricordo uscirà edito in Italia dal 24 di questo mese. Il gioco è della Kmon Studios, quindi gli stessi di Zombieside, Massive Darkness e giochi del genere, ed è stato edito e portato in Italia, che io ringrazio centomila volte per averlo portato in Italia dall'Asmo d'Italia, ma soprattutto per avercene fornito una copia recensione. Abbiamo ricevuto questa copia per la stampa in anteprima, perché ricordo che il gioco uscirà il 24 di questo mese, e vi assicuro per tutti gli amanti di Kick-Ass, dei fumetti o dei film, quindi della serie di fumetti e dei film che sono usciti, ma per gli amanti della Kmon, come tipi di giochi da tavolo con molte miniature, questo fa per voi. Passiamo all'unboxing. Il gioco è di Mark Miller, John Romita Jr., e soprattutto è dedicato ai fumetti di Kick-Ass, quindi per quanto ovviamente i film siano, i due film usciti al cinema, siano molto simili ai fumetti, questo è dedicato interamente ai fumetti. E già la copertina, vedete, intanto la scatola piena zeppa di roba, però ridotta. Devo dire la verità, anche trasportabile tranquillamente, non dà fastidio a mettere dentro uno zaino. Comunque, iniziamo con l'unboxing. Prima cosa, il regolamento di gioco. Tra l'altro, molto semplice e ben illustrato. Per quanto le regole forse non siano pochissime, però di facile lettura, già vi basterà leggere una volta per aver capito come giocare. Pubblicità all'interno e per tutti i fan dei fumetti della Marvel e della Panini Comics, c'è anche un fumetto dedicato interamente a Hit-Girl. Schede dei personaggi, tra cui ci sono ovviamente Big Daddy, non poteva mancare, il colonnello Starz, Doctor Gravity e tutti gli altri che avete poi visto nella serie, ovviamente anche comprensivi di Kick-Ass e Hit-Girl. Mappa di gioco che vede tutti i quartieri principali di New York, mappa forse leggermente troppo grande, cioè servirà veramente un bel tavolo grande per fare questo gioco, comunque resa benissimo e anche bellini disegni e lo stile. Segnalini, invasione degli sgherri, più per segnare il turno corrente di gioco e per la fase finale del boss. Quando il boss apparirà sulla mappa di New York, questo sarà sottitutivo a quello precedente. Dadi divisi in dadi rossi d'attacco, dadi blu di difesa e dado nero per il possibile l'eventuale svenimento. Le bustine per conservare tutti quanti i token e la roba di gioco, grazie veramente che ora in tutti i board game che vengono acquistati dal fine 2018, inizio 2019, ce le mettono sempre. E prima, per quanto non ce le mettessero, però non era una cosa da dare per scontata una cavolata, servono molto. Carte evento di gioco, quindi tutto quello che succederà all'interno della mappa di New York e carte per i boss. In questo caso vedete Red Mist, Codardo Bastardo, che è il primo boss, quello più semplice. Carte azione per i personaggi, quindi i nostri supereroi. Mazzo difficoltà, che tanto vi farò vedere poi in gioco. Mazzo generazione sgherri e oggetti, che potrete acquistare al market e nel gioco. E per finire, cosa non meno importante, le miniature, che oltre a essere tante, perché guardate là, è bellissime, questo è il classico, ci sono tante persone che mi hanno detto non adorano i giochi alla Zombicide comunque della Kmon. A me personalmente piacciono da morire, anzi sono i miei preferiti. Però la cosa bella è che quando compri un gioco loro, può essere bello o meno bello, per te o non per te, ma ci avrà dentro una schiera di miniature tante, caratterizzate, fatte bene, e poi guardate là, cioè viene la voglia di dipingerle anche a me, che a dipingere sono poi una capra. Bellissime. Questo è Kikess. E questa è Hit Girl. Allora, passiamo a descrivere una scheda, in questo caso quella di Hit Girl. Ogni personaggio ha quattro slot per gli equipaggiamenti, che sono uno slot in testa, tipo il casco, un'armatura, e gli slot delle mani, sinistra e destra, per mettere oggetti impugnabili a una mano. Se nel caso comprerete o troverete oggetti, tipo un mitra, una K47, che va impugnato a due mani, ovviamente basterà prendere uno slot soltanto, per l'avere riprese tutte e due. Quindi sarà un'arma che occuperà due slot. Qui dove c'è questa freccetta, qua su in cima, è lo zaino, e quindi qui al lato, potrete mettere fino a cinque oggetti, trasportabili nello zainetto del vostro eroe, per poi partire con la descrizione della scheda. Tanto quello che dovrete sapere, sulla scheda del personaggio, le cose che avrà di partenza, saranno sempre segnate qua su in cima. Quindi sotto il nome di Hit Girl, ci sono tutte quante le sue caratteristiche. Comunque, un personaggio ha sempre dollari di base per comprare oggetti, livello di felicità del personaggio, quindi che può andare da un valore massimo di 9 a un valore minimo di 1, dove 9 ha la massima felicità e 1 invece cade in depressione. Poi ogni personaggio avrà un livello di forza, qui fatto dal disegnere di un peso in questo token, che più che salirà, il personaggio diventerà più robusto e imparerà a combattere, avrà dei bonus. Poi, come vi ricordate nel film e nei fumetti di Kikess, i social, che sono importantissimi. Quale supereroe nell'ambientazione di Kikess non si taggherebbe su Instagram o su Facebook. E quindi l'indicatore di social che più che salirà, più che i vostri iscritti saliranno, 100k, 10k, 50k, 100k, fino alla fine e vi daranno ovviamente dei bonus e poi, qua giù in fondo, i punti vita del vostro personaggio, in questo caso, Hitgirl, essendo una bambina, ne ha 3 e Kikess, essendo comunque un ragazzo, un po' più adulto, ne ha 6, un po' più robusto. Quando i vostri punti vita arriveranno a 0, ovvero qua giù in fondo, finirete all'ospedale. Completano la scheda del personaggio e le carte di partenza, le carte azione dei personaggi che sono carte blu identificabili per la vita del ragazzo, del ragazzino di tutti i giorni e le carte rosse invece sono le carte d'attacco e quando si maschera nella vita da supereroe. La carta verde è una carta rara e leggendaria di vero, ciascun personaggio con l'abilità la ulti se vogliamo prendere un MOBA e per arrivare ad avere questa carta dovrete arrivare al livello massimo dei social. Arrivando al livello massimo dei social e diventando degli eroi conosciuti e rinomati sbloccherete quella carta laggiù che vi assicuro è potentissima. In più, sul campo dividete tutte le carte azione blu che sono quelli della vita quotidiana andare a lavorare cose del genere del tempo libero e le carte rosse che sono quelle quando vi vestirete da supereroe. Dividetele in due mazzi create due mazzi e ricordatevi che ogni volta accanto a questi due mazzi ce ne dovranno sempre essere quattro blu e due rosse. Una volta che sarà passato il turno dovrete togliere queste carte rimescolarle e rimetterne sempre quattro nuove completamente nuove. Ultima cosa prima di iniziare la partita sceglietevi una carta boss e le carte evento del boss che seguono perché questo sarà il boss finale che dovrete combattere. All'inizio dell'avventura scegliete voi se pescarla a caso o decidere voi quale avventura fare. Vi consigliamo di partire con Red Mist il codardo bastardo perché è l'avventura più facile del gioco. Come vedete la mappa di gioco di New York è divisa in quartieri c'è il quartiere del porto che vi farò vedere proprio avanti come funziona ed è di vitale importanza per l'avventura il quartiere dei negozi dove si possano andare a fare le compere Central Park che tra l'altro è il quartiere di partenza di Hit Girl la biblioteca che è il quartiere di partenza invece di Kikess poi abbiamo il municipio Wall Street l'ospedale e il dipartimento di polizia. Vi faccio vedere cosa per cosa. Allora inizia il turno la X il cursore in cima vedete sul turno primo perché stiamo iniziando il primo turno e il livello degli sgherri il cursore degli sgherri è su questa casella che puoi andare a scalare ed è su un valore di 2 quindi iniziando il turno la prima cosa da fare sarà girare una carta evento e posizionarla nel primo slot dei 3 delle carte evento la carta evento ci dice sempre una missione da compiere cosa bisogna fare esattamente nel nero cosa guadagneremo vincendo la missione e cosa invece perderemo fallendola le missioni gli eventi vengono messi sempre nel primo slot successivamente all'inizio del prossimo turno scaleranno sempre di 1 sempre automaticamente anche se nello slot prima è stata risolta una quest e quindi non c'è niente a spingerla si sporteranno sempre e quando arriverà al terzo slot dell'evento al terzo step degli eventi della tabella degli eventi sarà l'ultimo momento in cui sarà possibile portarla a termine perché nel turno successivo verrà rimossa da gioco scartata buttata negli scarti e avremo fallito come vi ho detto la missione inizia la fase di urna la fase di urna si divide in tre step che sarebbero viene chiamata di urna ma sarebbero la mattina il pomeriggio e la sera quindi ogni giocatore ogni personaggio potrà compiere un'azione per ognuna di queste tre fasi all'inizio di ognuna di queste tre fasi del giorno c'è la fase di generazione degli sgherri quindi io prendo dal mazzo generazione vedete queste carte piccoline una carta e la giro la carta mi dice che è una generazione base quindi andando a vedere il cursore qua giù degli sgherri io vedo che vedete il cursore degli sgherri è su un livello 2 attualmente sopra il livello 2 quindi vuol dire che esponeranno due sgherri e la carta ci dice dove esponeranno quindi il primo nell'ospedale che vedete scritto in alto quindi vado a mettere uno sgherro nell'ospedale e il secondo invece va nel dipartimento di polizia quindi io metterò uno sgherro qua giù ora iniziano le tre fasi dei giocatori che vi illustrerò e alla fine di ognuna di queste tre fasi dovete sempre girare un'altra carta generazione facciamo conto che il turno sia passato e noi debba girare una successiva dice intanto è una generazione base non ci sono elite o cose del genere però il cursore 1 vedete sale di 1 e quindi va sul 2 ma se fosse già stato sul 2 fosse salito di 1 sul 3 si sarebbero generati tre sgherri invece che i due che avete visto principalmente quindi uno sarebbe andato nel porto uno nella biblioteca e uno nel dipartimento di polizia nel caso delle carte di partenza delle 5 che è in mano di Hitgirl ricordo che ogni personaggio può giocare una sola carta per ogni frazione di questo turno quindi una la mattina una il pomeriggio e una la sera come vi ho detto le carte blu sono per la vita quotidiana le carte rosse sono per quando ci vestiamo nei panni del supereroe allora ogni carta ha un valore di movimento segnato qua giù in basso a sinistra quindi vuol dire che se io usassi questa carta potrei spostarmi di due settori della mappa ci si sposta nei settori della mappa collegati da una freccia quindi Hitgirl Central Park potrà fare nel caso usi questa azione qui con due movimenti potrà muoversi di uno nel municipio e di uno a Wall Street però non potrà ad esempio da Central Park muoversi direttamente nel quartiere del porto perché come vedete non sono collegati quindi dovrà sempre fare un giro potrebbe dire invece di passare dal municipio di passare direttamente dai negozi e poi andare al porto ma non potrà saltare da uno all'altro in più come vedete c'è un simbolino su tutte le carte della vita quotidiana c'è sempre questo simbolo qui che sembra un piccolo rolocio e questo serve per attivare tutti quanti i bonus che ci sono in ogni quartiere vi prendo l'esempio nel municipio se io decidessi di usare questa carta due azioni ne faccio solo una mi fermo al municipio e scartando questa carta cioè tappandola decido di usare la mia azione con l'orologio vuol dire che attiverò l'azione del municipio che in questo caso mi dice ottieni riprendi una carta attivazione quindi questa è una cosa molto interessante perché questa è una carta attivazione una di quelle che ho usato finora questa qui io andando qui potrei usare l'azione ad esempio se io avessi già usato quella del combattimento potrei usare l'azione per stapparla ed averla un'altra volta utilizzabile prima della fase di riposo e quindi il municipio è una figata ogni quartiere vi darà qualcosa quando lo ripulirete ovvero quando nel quartiere appaiono uno o più sgherri quindi facciamo caso che in questo quartiere ci siano nel quartiere municipio due sgherri io potrò ovviamente usare invece della carta blu nel turno successivo usare la carta rossa che la carta rossa mi dice ti muovi di zero quindi questa carta non serve assolutamente per spostarsi perdo uno di felicità perché questa carta qui mi fa calare un po' la felicità appunto del personaggio l'umore del personaggio però mi dice che oltre a tirare mi dà di ricombattimento nel caso dovessi sul dado d'attacco che vi ricordo è diviso in colpito fallimento e fulmine quindi attività abilità speciale appena attivata nel caso di un fulmine mi darà un hit aggiuntivo quindi un colpo aggiuntivo se io dovessi attaccare e liberare questo quartiere rimuoverò loro e mi prenderò come ricompensa per aver pulito il quartiere dagli sgherri un punto like per i social ricordo la regola che se nel caso dovessero comparire personaggi speciali o mini boss all'interno di un quartiere non andranno mai posizionati vedete hanno la base non tonda la vedete esagonale li dovrò sempre mettere non dentro uno dei quadretti ma all'esterno comunque sulla scritta come ad esempio c'è hit girl perché il boss il mini boss non prende non conta come un posto alla fine del combattimento nel caso invece hit girl si fosse spostata a wall street avrebbe usato l'abilità di wall street che dice ok usa l'abilità sempre del tempo che c'è assolata carta perdi uno di felicità ma guadagni tre dollari nel caso il quartiere venga ripulito invece guadagnerai un ulteriore dollaro queste sono le regole principali fanno differenza il quartiere dei negozi dove usando l'azione e pagando dollari potete prendere una di queste armi e il quartiere del porto dove usando l'azione potrete dare via al primo step di questo token decidendolo voi se difesa o attacco che fino a che sarà presente nel gioco vi farà guadagnare o a tutti gli eroi in gioco tutti non soltanto uno perché questo è un gioco cooperativo si vince o si perde tutti insieme vi faranno guadagnare o un attacco o una difesa a tutti gli eroi fino a che sarà in campo per farla breve vi ho fatto vedere queste tre fasi in queste fasi voi forse la cosa più bella del gioco che a me piace da morire dovete dividere saggiamente le scelte potete fare una vita completamente da supereroe o una vita da comune mortale la vita da supereroe vi porta a like vi porta a essere famosi su social tante volte però il problema è che vi abbassa la felicità perché dovete combattere il crimine vi dovete sporcare di sangue anche scendere a compromessi magari fare azioni uccidere persone che non vorreste fare dal vivo quindi vi farà perdere felicità ma vi farà guadagnare tantissimo sui social e quindi sbloccare le carte abilità quelle verdi invece nelle carte blu vi serviranno perché ragazzi non andate avanti anche in questo gioco dovete lavorare quindi se non andate a lavorare non fate soldi senza soldi non potete comprarvi le armi e rimarrete uno sfigato perché qui ricordo che nell'amministrazione di Kikess non ci sono assolutamente superpoteri siete persone normali e quindi dovrete andare nel quartiere dei negozi per comprarvi un equipaggiamento tale da fronteggiare e distruggere il crimine finite queste tre fasi c'è importante la fase di riposo allora la fase di riposo inizia con prima cosa se nel porto avete attivato o l'attacco o la difesa il bonus d'attacco o di difesa lo dovrete spostare di uno avanti quando uscirà e andrà via praticamente questo bonus sarà perso e uno dei supereroi dovrà ritornare lì nel posto per riattivarlo ancora una volta e farlo ripartire da capo è un bonus che tutti prendete quindi tenetelo sempre attivo poi controllate la carta eventi per eventuali azioni da compiere nella fase di riposo però in questo non vedo che c'è niente di strano non parla di fase di riposo quindi non c'è niente di strano si va avanti l'evento rimane lì controllate se la carta piano finale del cattivone deve essere attivata ma in questo caso no perché vi farò vedere io come funziona inizia la fase di attivazione nella fase di attivazione intanto tutte le carte usate tornano in mano ai giocatori queste carte qui le carte attivazione non vengono mai scartate vengono semplicemente tappate e ricaricate durante la fase di riposo in questa fase avete visto all'inizio che c'è un piccolo mercatino delle carte attivazione come vedete ci sono sempre 4 carte blu e 2 carte rosse quindi io potrei dire ma sai che c'è questa carta rossa non mi piace perché ha un attacco particolare o qualcosa che non mi piace non mi piacerebbe utilizzare la scarto e prendo questa quindi scartando questa prendo quest'altra vi ricordo che o lo stesso potrei fare con una carta blu potrei scartare questa per prendere questa che quando la uso mi dà una felicità e due nei social però vi ricordo che per ogni turno per ogni nuova fase quella successiva la fase di riposo potete prendere scambiare una sola delle carte presenti quindi scegliete voi e scambiatela muoviamo l'indicatore del round spostiamo l'evento di uno come vedete qui peschiamo un nuovo evento che va nel primo slot quindi adesso in campo non ce n'è più uno ma ce ne sono due e vi ricordo che dovete svolgere e fare questi eventi perché la partita finisce in un caso soltanto la partita finisce se risolvete tre eventi normali prima che il cursore finisca al nono round dovrete risolvere tre eventi rivelare l'evento finale del boss in questo caso red mist e sconfiggere il boss se alla fine del nono round non avrete risolto tre eventi in più quello del boss la partita sarà finita o la partita può anche finire prematuramente se sette sgherri entrano nel municipio ovvero tutti e sei le slot del municipio presi più uno in più questo vorrà dire che avranno conquistato la città di New York e la partita sarà assolutamente persa Kikess si trova a Central Park vuole combattere questo sgherro per eliminarlo dal dipartimento di polizia quindi usa questa carta che lo muove di uno e lo muove al dipartimento di polizia in più mi dice potrai attaccare guadagnando un dado rosso aggiuntivo però perderai uno di felicità quindi levo uno di felicità dalla scheda che poi vi farò vedere che cosa comporta prenderò i miei dadi che con l'equipaggiamento di partenza più il bonus che abbiamo dato al porta all'inizio Kikess tira tre dadi e per ogni colpito che andrà a segno farò un punto ferita vi ricordo che tutti i nemici gli sgherri hanno un punto ferita gli sgherri elite hanno sempre un punto ferita ma fanno due danni invece che uno mentre invece il boss finale ha le sue regole che poi vedrete nella carta comunque io vado a tirare i dadi in questo caso ho fatto due successi più un fulmine ma tanto sulla carta o sull'arma non c'è niente di particolare ho fatto due successi quindi lo sgherro è stato ucciso gli sgherri non tirano mai per difendersi ogni successo è una ferita Kikess nel caso però anche quelli morti contano come ferite quindi ho subito ho fatto due ferite ma non ho subito una quindi andrò a tirare il dado blu se è presente perché gli eroi di partenza non hanno dadi difesa andrò a tirare il dado difesa e se esce questo mi prenderò una ferita se esce lo scudo invece avrò parato il colpo come regola per aver difeso ripulito il dipartimento di polizia vedete dice puoi fare pulizia di uno sgherro in qualsiasi lato della mappa quindi potete dire ok sai che c'è ho ripulito il quartiere e lo sgherro all'ospedale lo levo unica cosa che se levate lo sgherro dall'ospedale e lo avete comunque ripulito non prenderete il bonus perché dovete essere fisicamente presenti nel quartiere che è andata a ripulire quartiere dei negozi dovete andare laggiù per comprare oggetti e ricordo all'inizio alla fine della fase del riposo e all'inizio della fase successiva quando muovete il turno mettete il nuovo evento dovete scartare queste quattro carte del negozio e pescarne altre quattro perché i negozi non avranno mai gli stessi oggetti per due giorni di fila passando ve l'ho detto di forza guadagnando forza per abilità ad esempio a central park o carte che potrete trovare carte attivazione queste cose potranno salire ma a volte anche scendere comunque salendo la forza vi darà la prima volta che sale vi darà un dollaro in più la seconda volta vi darà due dadi d'attacco e sono diverse per ogni personaggio in più ci sono il livello dei social che anche questo vedete ci sono dei quadrettini bianchi e salendo vi sbloccherà qualcosa tipo potete comprare nei negozi a meno uno e così via e i punti ferita che vi manderanno all'ospedale ricordo è importante quando il vostro personaggio raggiunge il livello ferito qua giù quindi dallo zero scala a quest'altro dovrete tirare questo dado nero nel caso che compaia nulla di fatto non succederà niente e resterete lì con zero punti vita nel caso invece esca un ferito il personaggio sarà immediatamente inviato all'ospedale perderà tutta quanta la sua fase del turno che ricordo essere tre nella fase di urna quindi perderà un'azione su tre però riguarderà tutti quanti i punti ferita praticamente nel gioco di kickass i supereroi non muoiono mai ma è molto facile perdere la partita la cosa più importante in assoluto da tenere di conto sono i social perché scalando con i social cioè arrivando in cima al massimo dell'essere famoso guadagnerete la carta verde che è la carta attivazione più potente del gioco e che vi darà dei bonus veramente spettacolari a quel punto sarete un supereroe fatto e cresciuto mentre invece con la felicità quando arriverà al livello 4 e al livello 1 arrivando al livello 4 nel caso di hit girl vi farà girare la prima carta difficoltà e la prima carta difficoltà pescata all'inizio del gioco dice che hit girl durante la fase di notte vedete la luna durante la fase di riposo perde un like nei social quindi scala e questo è brutto perché fino a che non la farete ritornare felice e quindi ritappare questa carta cosa vorrà dire che lei la sua carta verde a fine del turno la dovrà sempre rimettere coperta se nel caso dovesse arrivare a 1 si girerà non solo la prima ma anche la seconda quindi avrà 2 malus in questo caso qui meno un dado d'attacco e in più arrivando qui perderà 1 di felicità vedete perché è già al minimo e in più perderà anche un like quindi ancora i like vanno a scalare perché la gente la vede depressa e insomma ne risentiranno di molte social in conclusione ragazzi è il classico gioco dell'Akmon quindi vi deve piacere un tipo di gioco dove come insegna un po' il loro stile in Zombicide partite che ci sono due sgherri due mostri sul tavolo per poi essere pieno e non sapete più cosa fare quindi un gioco dove vi dovrete muovere molto velocemente il regolamento del gioco è semplicissimo all'inizio sembra che ci abbia tante regole però vi assicuro vi basta vedere una partita e poi le regole che vi ho spiegato l'avete vista sono tre in croce rispetto ad altri giochi che ho recensito un pochino più complicati ed è un gioco che mi sento di consigliare uno a tutti gli amanti di Kikess ecco l'amante di Kikess lo devi comprare perché è veramente una figata mi è garbata da morire l'idea che devi vivere la storia del personaggio sia durante la fase da supereroe che la fase normale di tutti i giorni e questa è una dualità molto importante perché uno potrebbe dire un gioco di supereroe della Marvel sono Iron Man finisce lì ma invece sarebbe bello essere anche Tony Stark ogni tanto e qui è la cosa bella che secondo me lì hanno ricevuto veramente hanno fatto centro nell'interesse di un amante come me di supereroe comunque di Kikess la mappa è molto interessante il gioco l'unica cosa come tutti i giochi della Kmon è un po' troppo basato sul culo perché è vero che te ti puoi prendere le carte giuste puoi fare le giuste scelte ti puoi prendere l'equipaggiamento giusto e quindi diventi potentissimo però c'è sempre il tiro di dado che la fa da sovrano sì e anche un po' nel loro stile va bene come zombie side inizia la partita che scoppia il terzo turno inizia la partita che già al secondo c'è la motosega due uzi le armi leggendarie spacchi tutto e basti te da solo per ammazzare tutti gli zombie però appunto è anche basato cioè la componente culo qui è il 40% del gioco veramente cioè è tanto come percentuale come voto gli do un 7,5 perché è una bellissima idea mi garba è un tocca sana ovviamente per tutti coloro che cercano un gioco pieno zeppo di miniature per gli amanti dell'Akmon compratelo subito ma anche se non vi garba chi c'è anche se non vi garba nei supereroi compratelo punto e basta perché è veramente pieno zeppo di miniature è fatto bene ed è un gioco dove si passano veramente volentieri le serate molto attuale per il fatto dei social facebook youtube e tutto quanto l'unica cosa come per deep madness gli avrei dato anche un 8 gli levo metà del voto perché troppi token ragazzi c'è una busta dei token anche qui che piglia le tiri e poi no se una volta mi dovesse annoiader gioco le userò per carnevale per tirarle ragazzini sono troppi un gioco che ha così tanti token rischi che o ci serva tutto un tavolo per giocarci o che magari torni a casa nei pezzi due o tre e fai ora come faccio mi tocca ristamparmeli come posso fare c'è troppi token un gioco con così tanti token ha bisogno di un'app che l'accompagni e questo l'ho detto anche a quelli di deep madness al tempo comunque gioco veramente molto bello assolutamente trovate tutti quanti i nostri link in descrizione instagram facebook il sito e trovate anche il link per acquistarlo dall'asmo d'italia che ringrazio ancora una volta siete meglio e niente il gioco è veramente molto piacevole e assolutamente un must have per tutti gli amanti dei supereroi e dell'acmon ciao ragazzi alla prossima ciao ciao